contro l'obbligo del Green Pass. Occultare l'originario porto di provenienza per non determinare sospetti e controlli più accurati è la tecnica del tramacco, quella attraverso la quale l'imprenditore svizzero Alberto Eros Amato e lo spedizioniere doganale salernitano Giulio Antonio Apicella collaboravano per eludere i controlli su traffici provenienti da paesi sospetti come la Siria e cambiavano il materiale all'interno dei container inserendo la droga. Così indagando proprio sullo spedizioniere nell'ambito di un'inchiesta sull'agenzia salernitana la Guardia di Finanza e la Procura di Salerno in collaborazione con i reparti di Napoli e del GICO ed anche in sinergia con un'apposita squadra investigativa in Svizzera hanno accertato le responsabilità dei due per l'imprenditore e scattato l'arresto ai domiciliari a Baronissi lo spedizioniere salernitano sull'ingresso nel porto di Salerno di 17 tonnellate di droga tra le quali 14 di anfetamine del tipo Captagon, la cosiddetta anfetamina del combattente. L'operazione di sequestro balzo agli onori della cronaca come il più alto quantitativo di questo tipo di droga mai rinvenuto dalle forze dell'ordine. Un giro di nuove polizze sulle spedizioni e fatture che si avvalevano di aziende commerciali compiacenti nella disponibilità dell'imprenditore svizzero consentivano poi di portare a termine il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Questa indagine nasce chiaramente dopo il sequestro ingente di Captagon 17 tonnellate nel giugno del 2020. Effettuato il sequestro a carico di gnoti, quindi il primo risultato importante aver sottratto dal mercato un quantitativo così rilevante di stupefacenti. Però è chiaro che per chi conduce indagini sul traffico di droga l'obiettivo principale è soprattutto quello di risalire agli organizzatori, riuscire quindi a disarticolare le organizzazioni criminali e chiamare in causa le persone responsabili di questi traffici illeciti. Questa come regola di carattere generale. Nel caso specifico come emerge dalla professione svolta dai soggetti arrestati le indagini presentano dei particolari elementi di complessità perché innanzitutto uno dei principali artefici risiede in Svizzera quindi è titolare indirettamente di una società di trasporti e di logistica e chiaramente muoveva le fila per organizzare queste spedizioni dall'estero con tutte quindi le difficoltà che derivano per chi svolge le indagini in Italia e deve ricostruire dei rapporti, delle movimentazioni finanziarie, dei contatti che solo in parte interessano il nostro territorio. Come ha ricordato il signor procuratore prima è stata anche importante la collaborazione con le autorità elvetiche, quindi la squadra investigativa comune è uno strumento che sul piano normativo è previsto da diversi anni però nell'attuazione pratica richiede chiaramente uno sforzo di collaborazione, di integrazione tra autorità di paesi diversi che non è sempre agevole realizzare. In questo caso ci siamo riusciti e questo è evidentemente un valore aggiunto ulteriore per questa attività. Beh direi assolutamente sì perché comunque stiamo parlando di un'attività molto molto complessa che ha richiesto tempo, come accennavo in precedenza ha richiesto soprattutto un monitoraggio veramente molto molto allargato per ricostruire tutti i rapporti che emergevano. E' chiaro noi siamo partiti anche dall'analisi dei flussi documentali e bancari perché è quello che ci ha consentito chiaramente di ricostruire poi la reale destinazione e soprattutto i soggetti che gestivano diciamo questa importazione. Poi è chiaro che diciamo anche l'analisi poi telematica degli strumenti utilizzati ci ha consentito poi di arrivare appunto sia ad Amato che per quanto ci riguarda Amato Aeros per quanto ci riguarda appunto il titolare di questa società svizzera e sia a Picella che per lui era fondamentale proprio come diceva il procuratore per avere quell'anello debole all'interno del porto di Salerno che consentiva poi di procedere a questa attività. Prima avete fatto un riferimento anche al lockdown effettivamente quando abbiamo fatto il sequestro soprattutto il secondo di 14 tonnellate si trattava di contenere che erano fermi al porto da almeno un paio di mesi e questo chiaramente ci fa dedurre che in quel periodo non è stato possibile attivare la procedura che invece avevano attivato come pensiamo in precedenza.